A detta dei giocatori che continuano a lamentarsi per caldo e umidità, il terreno di gioco è un po' molle e porta ai segni evidenti di un recente concerto dei Pink Floyd. Alfio Basile dovrà rinunciare all'infortunato Vasquez, difensore centrale. Eschierera si porta preferito ai gol con Icea, eroe di Italia 90. Sensini, Caceres, Ruggeri e Chamonte in difesa, Simeone, Redondo e un balbo arretrato a centrocampo. Le due punte, Canigia e Battistuta, assistite dal genio di Maradona. Il PIB è in buona forma, di ottimo umore, fiducioso. A 34 anni, vista la latitanza di talenti assoluti, in condizione accettabile può ancora fare la differenza. Ai giornalisti che lo sommergono parla un po' di tutto. Non sottovalutare l'avversario e dimostrare agli americani che si può giocare anche con i piedi. Una parola perlita alla federazione statunitense, ma il vero direttore di gara sarà come sempre lui, Diego Armando Maradona. E sì, perché per la quarta volta in un mondiale, torna in campo Diego Armando Maradona, il PIB ed è oro. Sulla soglia dei 34 anni,